Magari dovrei cambiare vita Non l'avete sentito? Non l'avete sentito? Non l'avete sentito? Ma nessuna creatura, neanche il Rugaru, può sconfiggere un uomo di Dio. Il pirigli è protetto dal padre. Sotto la guida di padre Michael il villaggio abbandonò il culto demoniaco. Le picorelle tornarono al Grece e il terribile ricordo del Rugaru si perse tra le nebbie del tempo. O così pensarono? Giù figlia di puttana! Se scherzi col toro quello ti si incula, stronzo! Assurdo che Giorgi manchi un negro a fare il lavoro sporco! Muoviamoci! Sotto la guida! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.